Ciao ragazzi, bentornati su Tagliamartender, sono Gian, oggi vi faccio vedere uno degli aperitivi più amati e conosciuti in Italia, l'americano. Partiamo innanzitutto alla fredda del nostro croc del ghiaccio, fondamentale, come ben sapete il drink è più fra due e migliorare. Chiudiamo il ghiaccio, versiamo il nostro bitter per l'eccellenza, campari, 4 cellele e mezzo. Aggiungiamo poi del vermo torinese, anche qui, parte uguale, 4 cellele e mezzo. Noi utilizziamo la scaglia, un cubo grosso di ghiaccio, ma non benissimo anche i cubetti. Il drink è molto semplice. Si conclude tutto con della soda, un bello splash, un bello stir. Finiamo con della scorza di limone per dargli una nota fresca. Infine, con uno spicchio d'arancia per completare il drink. Il nostro sottobicchiere e il nostro aperitivo è pronto. Salute ragazzi! Eccoci ragazzi, bentornati. Adesso diamo qualche accenno storico sull'americano, che è sicuramente il padre, o meglio, è considerato il padre del Negroni. È un drink molto semplice e ha anche la sua storia molto basilare. Si dice che sia stata nominata, o meglio, sia stata omaggiata alla vittoria di Primo Carnera, che era un pugile italiano attivo negli anni 30, che dopo una vittoria a New York venne soprannominato l'americano. Ecco appunto il drink omaggiato a lui. Grazie ragazzi per averci seguito, vi rimando al blog per l'articolo intero e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!